ebbene perché faremo un'ora in meno di pane quello si hai portato il costume le paperette, il secchiello, paletta, occhialini e cuffia spettacolo è arrivato il ristorante e non è andato è arrivato il profumo della fiorittura ma sai che non mangiava mai, non è arrivato neanche il cuore grazie